Se fosse francese o inglese tutti conoscerebbero Felice Beato e invece purtroppo era italiano e quindi quello che ha inventato un'arte, la fotografia di reportage, grazie alla quale è cambiato il nostro modo di vedere il mondo, è un perfetto sconosciuto. È nato a Venezia probabilmente, ma ha passaporto inglese perché quando era ancora piccolo i suoi si trasferiscono prima a Corfu e poi a Costantinopoli. A Costantinopoli entra in contatto con un inglese, un signore di nome James Robinson che si dilettava di fotografia, è una malattia che lo prende, con una macchina fotografica va in Crimea e nel 1855 documenta la caduta di Sebastopoli, da lì in poi la sua è una vita di viaggi e d'avventura, va in Oriente, prima in Cina, poi in Giappone, rimane molti anni in Giappone dove è il primo a documentare un paese completamente alieno, completamente diverso da tutto quello che gli occidentali avevano mai visto. Fotografa la vita quotidiana, ma fotografa anche la cultura, fotografa gli stili di vita, fotografa l'anima del Giappone, come si vede da una serie di fotografie assolutamente eccezionali che ci sono rimaste. Sono fotografie a colori per una strana combinazione di talenti. Lui naturalmente fotografava in bianco e nero, poi però dava a degli artigiani giapponesi il compito di colorare le sue fotografie rendendole simili all'originale con dei pennelli che costituivano un'arte assolutamente certosina, c'erano pennelli fatti di un solo pelo per i più piccoli dettagli, per i particolari più minuti. Il suo periodo d'oro in Giappone finisce verso la metà degli anni 70, quando comincia a occuparsi anche di altre cose. È il socio nella fondazione di un grande albergo a Yokohama, si lancia in fallimentari peraltro, speculazioni in borsa. Cerca di rifarsi andando prima in Bermania e poi in Sudan negli anni 80 dell'Ottocento, affiancando alla sua attività di fotografo anche quella di mercante d'antiquariato, ma anche lì le cose non vanno bene. Muore nel 1909 scapolo e solo a Firenze, un posto curioso per uno come lui che aveva passato tutto il centro, la parte più importante della sua vita in Asia, dove infatti tutti credevano fosse morto fino a quando qualche anno fa è stato trovato il suo vero certificato di morte. Una morte che lo ha lasciato del tutto dimenticato, ma per fortuna e paradossalmente solo in Italia.